ciao a tutti e a tutte amici ed amiche di swiver io sono luca sapo e vi do il benvenuto ad un nuovo episodio di storia di ciclismo in questa puntata parleremo di un favoloso corridore polacco degli anni settanta ma in realtà questo episodio sarà più che altro un viaggio in quel meraviglioso e dimenticato mondo del dilettantismo della seconda metà del novecento il corridore in questione chi l'ha visto gareggiare giura che sia il più grande talento partorito nella storia della sua nazione migliore dell'attuale michael kiatowski migliore di quell'ek piasecki che negli anni 80 conquista diverse tappe del giro d'italia ma anche i campionati mondiali dell'inseguimento individuale tra i professionisti e i campionati mondiali in linea su strada tra i direttanti e più grande anche dello sfortunatissimo joachim aluccio un talento favoloso che purtroppo ebbe la carriera e poi la vita stroncata da un cuore matto il soprannome della taleita di cui parliamo oggi e basettoni beh d'altronde quella era la moda dell'epoca ma il suo nome è richard shurkowski richard nasce il 12 gennaio del 1946 in un piccolo paesino al confine con la cecoslovacchia e la germania dell'est la ddea inizia a correre in bicicletta nel 1963 ma nel 1969 che entra nel giro della nazionale polacca la polonia appunto fa parte dei paesi del blocco comunista la professionismo non esiste le gare più importanti un corridore le fa con la nazionale gare come l'olimpiae come mondiale e come quella corsa della pace ovvero richard all'esordio nel 1969 arriva secondo oggi la corsa della pace è una gara di quattro giorni dedicata agli under 23 all'epoca era una corsa di 15 giorni dedicata appunto ai direttanti di tutto il mondo era conosciuta come la corsa delle tre capitali praga varsavia berlino perché attraversava la polonia la cecoslovacchia e appunto la germania dell'est ma aveva anche un altro soprannome era conosciuta come il tour de france comunista perché lo spessore di quella gara nei paesi del blocco orientale era paragonabile a quello della gran bucle per noi occidentali shurkowski in carriera vincerà ben quattro edizioni della corsa della pace è il primo nella storia a riuscirci si impone nel 1970 e nel 1971 poi nel 1973 quando batte il connazionale amico e rivale stanisar shurkowski ma soprattutto la vince nel 1975 a 29 anni quando batti poco più che ventenni hans joachin hartnik fresco vincitore del giro della ledeale e avu pikkus un fantastico talento baltico fresco vincitore del giro dell'urci in sostanza si dimostra il miglior direttante al mondo superiore anche i rappresentanti di spicco delle due nazioni principi della categoria ma i successi alla corsa della pace sono solo un piccolo pezzettino dello sterminato palmarès di richard shurkowski ovviamente ha vinto tantissimo in patria non ha mai conquistato la classifica generale del giro di polonia ma ha vinto ben 15 da per record ben di trionfi parziali poi ha vinto in italia ha vinto in spagna ha vinto in francia corse tutt'oggi molto famose come il circuit della sartre al tour del limousen ha vinto diverse tappe della milk race l'odierno giro di gran bretagna ha vinto in turchia ha vinto in bulgaria ha vinto anche in cecoslovacca ovviamente ha vinto in germania ma ha vinto in venezuela in una vuelta al tacila che era meta molto ambita al tempo dei corridori direttanti ha vinto in canada ha vinto anche in quel nord africa che oggi è un territorio totalmente dimenticato dal ciclismo ma al tempo a livello dilettantistico presentava delle gare molto ambite come il giro di marocco il giro dell'egitto il giro di tunisia e soprattutto la gara principe di quella zona ovvero il giro di algeria nell'albo d'oro di queste gare troviamo anche nomi come quelli di gosta pettersson vincitore del giro d'italia nel 1971 e di sven hake nilsson che arrivò invece terzo alla vuelta a spagna nel 1982 richard oltretutto si è elevato grandissime soddisfazioni anche alle olimpiadi e i campionati del mondo ai giochi ha conquistato due argenti a monaco nel 1972 e a morrea nel 1976 ambedue nella cronoma a squad di 100 km riservate ai quartetti una prova di rara bellezza dove bisognava unire una grande coesione adotti di fondo strepitoso quello stesso tipo di manifestazione ha vinto anche due maglie ridate una nel 1973 e una nel 1975 ma nel 1973 in quel di barcellona sul circuito di monjuic non si è limitato a vincere un solo titolo mondiale sarebbe stato troppo banale in quell'occasione ha vinto anche la gara ridata riservata ai dilettanti quella prova si svolse in maniera veramente simile a quella dei professionisti tra i pro nell'ultimo giro c'erano davanti i quattro corridoi due belgi mertens e merckx luisso caglia e poi felice gimondi qui invece abbiamo davanti due polacchi sciurkowski e il suo eterno rivale stanislav sciolta e poi abbiamo anche il danese blauzun il francese borro sciolta da falandatura negli ultimissimi chilometri sono tutti in salita perché si sale verso il promontorio verso quel rettilino dove felice gimondi batterà sorpresa mertens involato a un certo punto però quando mancano poco più di due chilometri alla fine sciurkowski si porta in coda sembra sofferente schosda si gira lo no è confuso e decide di levarsi dalla testa della gara si sposta in terza posizione per controllare come sta il compagno blauzun e borro sono ambedue confusi e nessuno dei due rileva il polacco in testa del quartetto nessuno dei due continua a tenere alta l'andatura e la velocità dei quattro cala notevolmente sciosda guarda in faccia sciurkowski questo lo fissa a sua volta poi gli fa l'occhiolino richard in realtà non è in difficoltà anche se tutti pensano che stia faticato quella è l'arte del bleh e lui la mette in pratica in maniera a dir poco perfetta quando mancano mille e trecento metri all'arrivo sciurkowski si sposta sulla sinistra e parte con una stoccata micidiale sembra ballante avarese nessuno si aspettava il suo scatto nemmeno il cameraman che infatti per un po' se lo perde blauzun e borro restano paralizzati sciosda ovviamente non lo segue la nazionale polacca non è come quella belga merckx e merda si fecero i dispettucci per tutto il tempo qua invece i due nonostante siano rivali da praticamente sempre sono leali l'uno nei confronti dell'altro perché il bene della polonia viene prima di tutto la sparata di richard è devastante in poco tempo vola via esce da quella cornice di alberi che porta il rettilineo finale totalmente da solo alle sue spalle ormai c'è solo il sole che tramonta può godersi il voto del pubblico alza le braccia molto prima di tagliare il traguardo perché ormai non ci sono più possibilità che i tre al suo inseguimento lo raggiungono richard è campione del mondo ed è il primo polacco nella storia vince un titolo irridato in linea sciosda con una gran volata completa la festa secondo come spesso gli capitava dietro shurkowski e completa quello che è un risultato di portata storica per la nazione dell'europa orientale in seguito a quel risultato grandioso gli organizzatori della pariginizza già al tempo una delle manifestazioni più importanti dedicati ai professionisti decidono di invitare la nazionale polacca alla loro gara vogliono vedere il livello di questi atleti vogliono capire se questi che hanno dominato il mondiale dei dilettanti sono capaci di competere con i professionisti la stampa ovviamente poco considera il corrido dei polacchi d'altro nel via di quella corsa ci sono tutti i più grandi campioni dell'epoca c'è felice dimondi c'è raymond pulidor c'è gli obiettivi mercenni cooper c'è joachim agostinio c'è cocciso rodrighe dopo la prima frazione in linea però dovranno titolare c'è voluto eddie merckx sì perché in quella prima tappa che si conclude a orlins nella volata di gruppo in cui si assegna la vittoria shurkowski si esibisce in uno sprint strepitoso prende la testa a 200 metri alla fine sembra che possa davvero mettere tutto in fila solo il cannibale già in maglia di leader perché avendo il prorogo negli ultimissimi metri riesce a saltare shurkowski non conquisterà nessuna frazione ma si piazzerà altre due volte sul body di tappa e in tutto porterà a casa sei top ten in dieci frazioni ma sei su sette frazioni in linea una prova alla sua a dire poco strepitosa una prova che stupisce tutti quanti tutte le squadre di professionisti sono interessate a richard shurkowski addirittura la molteni di eddie merckx lo contatta passare professionista però voleva dire rinunciare a gareggiare con la nazionale polacca e per i corridori del blocco sovietico non c'è nulla di più importante che rappresentare il loro paese shurkowski quindi decide di declinare tutte le offerte e resterà dilettante per tutta la carriera non avrà più modo di confrontarsi con i professionisti resterà un punto di domanda su ciò che shurkowski avrebbe potuto ottenere se avesse gareggiato tra i pochi probabilmente sarebbe stato uno dei più forti di quell'epoca lì ad ogni modo 15 anni più tardi quando il muro di berlino cade i corridori di dilettante potranno finalmente passare professionisti senza rinunciare a rappresentare la loro nazione tra loro vi sono corridori come olaf ludwig come piotro grumov che otterranno tantissimi risultati anche contro i grandi del blocco occidentale dimostrando quello che shurkowski aveva già messo nero su bianco in quella pariginezza ovvero che i corridori del blocco sovietico i migliori dilettanti dei paesi comunisti erano al livello dei più forti atleti occidentali la nostra puntata dedicata al grande richard shurkowski e al dilettantismo nei paesi del blocco comunista si conclude qua se questo video vi è piaciuto vi consiglio di mettere un mi piace se non l'avete già fatto vi invito anche ad iscrivervi al canale da parte mia per oggi è tutto ma vi do appuntamento a settimana prossima con un'altra storia di ciclismo ciao